Iesi, città dello sport, sport che in estate vuol dire anche sabbia, sabbia che vuol dire anche beach tennis. Per l'occasione abbiamo qui con noi Maddalena Cini che è l'organizzatrice e didiatrice di un importante e molto interessante torneo di beach tennis qui all'MTA. Con questa iniziativa abbiamo voluto promuovere un pochettino quello che è il beach tennis anche nella nostra città. Ci auguriamo che con queste quattro serate di riuscire a portare gente, ad appassionare sempre di più a questo sport prettamente estivo e marittimo anche qui. Spero con l'occasione di riuscire a migliorare questa fantastica, già fantastica struttura che possiamo vedere qui del circolo MTA di Iesi e fare in modo che i nostri Iesini non debbano spostarsi più di tanto per voler fare anche solo una semplice partita in amicizia. Abbiamo iniziato ieri lunedì 16 luglio con il primo Open maschile Fit, continuiamo stasera martedì 17 con un Open misto, doppio misto, quindi dove giocheranno un uomo e una donna insieme e proseguiremo con il prossimo lunedì 23 luglio con l'Open femminile e concluderemo il tutto con una giornata chiamata un chi c'è c'è, un torneo amatoriale proprio fatto soltanto per richiamare l'attenzione, per far giocare chiunque, per far divertire nella giornata, nella serata di martedì 24. E con l'occasione vi invito tutti quanti a partecipare, sperando che possiate appassionarvi a questo sport, siamo qui, venite numerosi.